Una Gallipoli blindata con le forze dell'ordine che notte e giorno monitorano la situazione soprattutto per il clima di tensione che si è venuto a creare a seguito dell'operazione Interforce che ha visto impegnati carabinieri, NAS, polizia, guardia di finanza, guardia costiera e polizia locale nel sequestro di 8 box al mercato ittico. 11 in tutto le persone indagate, un blitz che ha destabilizzato gli equilibri della città, il furgone Fiat Fiorino bruciato nella tarda mattinata di domenica, né l'esempio. Sembrano esserci pochi dubbi infatti sulla matrice dolosa dell'incendio. Peraltro il mezzo è intestato a Francesco Buelis, commerciante di 40 anni di Gallipoli, indagato insieme ad altre 10 persone per le vicende legate al mercato del pesce e anche marito della consigliera comunale Serena Pepe. L'ex consigliere comunale Sandro Quintana invece in un post sui social ha denunciato minacce e invocato una reazione dura contro chi attenta alla sicurezza. Ma l'azione di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, con pattugliamenti, posti di blocco e persino elicotteri in volo per perlustrare ogni angolo della città, arriva dopo anche altri episodi di gronaca che hanno interessato Gallipoli. A Baiaverde infatti è stata segnalata una pozza di sangue sul lungomare, probabilmente risultato di una violenta rissa tra due gruppi rivali. Un giovane è stato rapinato del suo cellulare all'esterno di una discoteca. Diversi vacanzieri e residenti hanno segnalato una serie di furti in zona. E poi nelle scorse ore è stata annullata l'esibizione di uno dei rapper emergenti per motivi, come si legge sulla pagina Facebook del Parco Gondar, non dipendenti dalla location. La cancellazione sarebbe scaturita perché sarebbero arrivate voci di possibili scontri tra gruppi milanesi e gruppi locali che sui social si sarebbero dati appuntamento proprio a Gallipoli. Intanto il questore di Lecce ha emesso sedaspurbani a seguito di una rissa avvenuta tra Tranesi e Nerettini lo scorso 26 luglio, sfociata nell'accoltellamento di due persone. La riviera gallipolina nelle ultime ore è finita sotto la lente di ingrandimento dei carabinieri del comando provinciale di Lecce, passando a setacce i punti di aggregazione. I militari della compagnia di Gallipoli, supportati dal personale del nucleo elicotteri di Paripalese e coadiuvati da quello medico del laboratorio mobile autonomo, hanno controllato 230 persone e oltre 100 veicoli, 25 le segnalazioni amministrative contestate per violazioni legate all'inosservanza del codice della strada, effettuati 28 screening per verificare assunzioni di stupefacenti, due le patenti ritirate in particolare ad un neopatentato, 18enne Gallipolino, perché trovato alla guida in stato di alterazione psicofisica legata all'uso di cannabinoidi e ad un turista 21enne perché al volante con tasso alcolemico oltre i limiti consentiti. Controlli su Gallipoli anche da parte della polizia stradale, con 73 conducenti sottoposti e test di screening, 3 sono risultati positivi agli accertamenti alcolemici, 5 invece positivi all'assunzione di sostanze stupefacenti. Indispensabile ai controlli è stata la presenza dei carabinieri elicotteristi con un mezzo dotato delle più moderne tecnologie per la ricognizione del territorio. Intanto l'attenzione su Gallipoli resta alta, così come alta è la tensione che si è venuta a creare.